Siamo qua con Franco Baresi al termine della presentazione Settembrino, ti chiedo due parole semplici sulla persona di Guido Settembrino. Per me è stata una persona fondamentale nella mia crescita, nella mia infanzia, per il suo modo di trattare con i ragazzi, avevo uno spirito vicente, grande passione, grande entusiasmo e quindi ho riuscito a trasmettere sani principi e valori alti che mi hanno aiutato nella mia crescita. Che torneo ti aspetti quest'anno? Memorial, Settembrino, come lo vedi? Io credo che siano sempre fondamentali e importanti questi tornei per valorizzare i ragazzi, per vederli all'opera, contro squadre che magari non incontrano durante l'anno, quindi credo che sia un bel torneo, importante, e quindi faccio un bocca al lutto. In chiusura ti chiedo due parole sulla situazione del Milan e la sua situazione del Brescia. La situazione del Milan deve essere stato stare in silenzio, aspettiamo gli eventi, vediamo se il Presidente deciderà il meglio per la società. Il Brescia quest'anno, credo che abbia fatto bene, ha lanciato tanti giovani, una squadra giovane e quindi credo che sia la stata giusta.